Ebbene sì, ce l'ho fatta. Oggi, con 8 giorni di anticipo, ho scoperto di avere raggiunto il mio giusto peso e di avere quindi terminato con successo la fase 2 della mia dieta di Ucan, il regime di crociera. Bravo! Quando ho deciso di iniziare questo regime dimagrante, ero convinto di potercela fare, ma non potevo immaginare di raggiungere un traguardo così importante con un margine così ampio. E non so descriverti la gioia, l'orgoglio e la soddisfazione che provo in questo momento per aver raggiunto questo risultato davvero notevole. Mi è stata molto utile una guida sorprendente che consiglio anche a te per ottimizzare i risultati con qualsiasi tipo di dieta. Di quale guida si tratta? Sto parlando del manuale dal titolo Dimagrire Pensando. Lo trovi sul sito www.dimagrirepensando.org Grazie del consiglio, lo proverò sicuramente. Non te ne pentirai! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!